Presentata questa mattina presso la sede della Direzione Generale della ASL di Pescara la donazione medica per l'oncologia dell'ospedale civile pescarese. Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati due monitor multiparametrici donati da Tommaso Dragani e Marco d'Aristotile con il contributo del Lions Club distretto 108 in ricordo della signora Angela Bonetti, madre di d'Aristotile e moglie di Dragani. In segno di riconoscenza per il reparto dell'oncologia medica di Pescara dove la signora ha ricevuto cure ed assistenza fino agli ultimi istanti di vita. Sicuramente i pazienti oncologici sono pazienti che hanno parecchie problematiche soprattutto quelli che accedono poi al reparto di degenza perché il grosso della popolazione si riesce a gestire in dei hospital ma poi ci sono pazienti che sono un pochino più impegnativi che necessitano ricovero sia per la parte diagnostica che per la parte terapeutica che per i trattamenti delle complicazioni e spesso anche per le ultime fasi della malattia anche se poi in molti casi c'è un passaggio verso l'ospis piuttosto che sull'assistenza domiciliare. Quindi noi cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per gestire al meglio questi pazienti, per fornire a loro il miglior trattamento disponibile per quella che è la loro condizione clinica e tutto il supporto necessario per la gestione dei sintomi che eventualmente dovessero risorgere o per le eventuali complicanze che ci possono essere. Credo che il fatto che ci sia una donazione a favore del reparto sia sostanzialmente una dimostrazione che cerchiamo di fare le cose nel miglior modo possibile. Per il direttore generale della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, si tratta di un grande gesto anche perché proprio le donazioni di privati rappresentano un grande contributo per le cure presso l'ospedale civile di Pescara. Un contributo importante, un evento tragico però che ha avuto un epilogo con questa donazione che testimonia il lavoro che viene fatto dall'ospedale. Quindi se da Milano viene detto che la cura può essere fatta in Abruzzo a Pescara vuol dire che anche noi facciamo una sanità di eccellenza. Si parla di donazioni, anche di privati c'è sempre bisogno anche nella sanità pubblica di questi gesti che sono gesti sicuramente importanti e significativi. L'abbiamo visto durante il Covid e continuiamo a verificare quanto i privati ci tengono a dare questi contributi. È importante questo lavoro di rete, questo lavoro di squadra. Senza di loro sicuramente qualche difficoltà l'avremo.